Un momento, penso, molto bello anche perché questo è il primo anno, diciamo, col nuovo Consiglio Comunale che si è insediato, in quanto l'anno scorso non si è potuto fare a causa della pandemia e quindi siamo stati molto limitati. Quindi quest'anno facciamo come consueto e previsto anche dello Statuto del Comune di Fano il Consiglio Comunale congiunto con questi consiglieri, questi bambini e i consiglieri comunali, dove ognuno di questi ragazzi esporranno la loro attività svolta nel corso dell'anno, le loro richieste, le loro osservazioni, le loro obiezioni e che poi l'amministrazione dovrà recepire e trasformarsi magari in realizzazione delle loro richieste. Quest'anno si ricorre il trentennale della Città delle Bambine e delle Bambini e in occasione anche di questo evento nel Consiglio Comunale verrà proposto un protocollo di adesione del Comune di Fano, Città delle Bambine e dei Bambini e degli Adolescenti, promosso dal Comitato Italiano dell'Unicef. Fondazione Onus verrà portato in consiglio questo protocollo d'intesa che poi si darà seguito all'attività in collaborazione con la Fondazione Unicef.